Raffaele Lombardo agli ex assessori, Tinnice e Armao? Bravi, non gli auguro di candidarsi! Vant create site? Fint free word prestemesa in plugins. Leggo dai giornali che tra i papabili candidati alla presidenza della regione siciliana ci potrebbero essere anche due ex assessori della mia giunta regionale. Ebbene, non augurerei al mio peggior nemico di diventare governatore della Sicilia, figuriamoci a due miei assessori e? Lo afferma l'Ancronos Raffaele Lombardo, l'ex presidente della regione siciliana, che non ha dubbi, diventare governatori è solo una iattura. Tra i possibili candidati alla presidenza, ma per ora sono solo rumors, ci sarebbero il docente Gaetano Armao, che proprio ieri ha incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi, e la deputata europea del PID Caterina Chinnici, corteggiata in questi giorni dai democratici. Se fossero entrambi candidati finirebbe come l'assino di Buridano. Famoso perché aveva a disposizione due mucchi di biada e poi è morto di fame dice con ironia Lombardo Naturalmente sto scherzando. Se davvero fossero candidati Armao e Chinnici, e stimo enormemente entrambi, io mi asterrei. L'avvocato Armao mi ha anche difeso davanti alla Corte dei Conti, con ottimi risultati dice Lombardo ma proprio perché lo stimo gli consiglierei di non candidarsi. E poi aggiunge, ho letto che ieri è andato ad Arcore, beh per un autonomista andare da Berlusconi non è proprio il massimo e... E ricorda che nel 2008 Berlusconi mi offrì Mari e Monti e essere a Milano o a Roma vuol dire solo una cosa, dovete dare conto al leader nazionale. E sulla figlia del giudice istruttore, sua ex assessore alla famiglia e alle politiche sociali, e oggi deputata PD a Strasburgo dice, era brava come assessore. Io le sconsiglio di accettare la candidatura a governatore. Ma lo dico per il suo bene, perché io per questa scelta ho sofferto le pene dell'inferno sul piano personale, sia professionale che familiare. E sul voto del 5 novembre dice, mi auguro che si scelga per il meglio. Ma io non so dire chi sia il meglio è. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.